questo è il passaggio duro della sandrera gli altri sono assolutamente indietro noi siamo arrivati qua adesso abbiamo il gradone finale pablo dietro davide vuoi che vengo arrivo cazzo vista così è ripidissima è allucinante ma sia un scemino è passata di qua vai su prima tu no no vai c'è già sul casco pablo ma che cazzo fai ma brutta sega ma brutta sega ma la riesce ma la riesce a salire davide ha pure whippato qua ho fatto il back flick alla pastrana mezza sega che non sei altro va le due le due yamaka ferme queste hanno fatto bagarre e come due ciucci sono fermati sullo stesso punto allora ne discutiamo noi ci siamo fermati qua sotto la prima volta devo dire che stavolta sono riuscito a salire senza problema cazzo almeno fino a qua io sono andato giù ho preso la destra è una cagata salire a destra dove tu ti sei bloccato lì è inutile far fatica inutile vai a destra è una cagata infatti herman me l'ha detto io non mi sono fidato perché ha detto infatti herman voleremo a contro basta sì però sei lì aia 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 vediamo lui a sta sinistra secondo me ha sbagliato in nona eri sesta aia aia no mi sei puntata ciao già vista sta scena di sta da destra pablo ma come spingi, ma come spingi Marco, ma che roba allora no, ho detto allora ma che cazzo dite che dura, dai, noi ci siamo fermati qua, eh io mi so cioè, c'ho tutto c'è tutto no, vabbè stiamo dicendo stronzate a manetta vabbè, però in effetti siamo venuti su fin qui ragazzi, vi prendiamo al volo tu Marco sei il nostro idolo, eh non te lo volevo dire Bergum, Bergum sei il nostro idolo questo chi è? Gianni ma perché va su di lì? ma perché ti complichi la vita, Marco? vieni su di qua Pablo Pablo, stai di qua io sono venuto su di qua e una cagata disposto? il salto da paura questo è un salto da paura no, accompagnala ma sei scemo? ti prendiamo noi ti devo prendere ok piano aspetta aspetta spostati però eh, aspetta non ti coglioni adesso ti lascio berry è posso hai rischiato di farti malissimo eh? non devi salire ti sei fatto male anzi no hai la faccia strana no la rifaccio perché di qua si può salire stai di qua che sali allora no ascolta Gian fidati di un cretino a parte gli scherzi e la tua ti dà la coppia subito di là sali ma dai il colpetto finale vedo qualcosa che fuma? no la moto del Pablo che fuma no ah gli indiani Paolo ma come mai eri dietro? come mai eri dietro e hai fatto tutta sta fatica? cazzo è successo? ragazzi oggi ho difficoltà come mai che noi siamo già su? oggi ho difficoltà scusa la telecamera grazie come mai che noi siamo già su? vedo noi andiamo qui c'è Airman DR400 gomma liscia davanti a tutti è salito da solo sì veramente? no vabbè dai non esageriamo e la dual scusa? vabbè poi al secondo posto salite la dual e solo al terzo la beta perché ho fatto un leggero 180 io ma Gian la sa superare benissimo la sandrea la sei tu che ti senti comunque l'unico cretino che lì è passato a destra sono stato io a destra è una cagata viene su da sola è venuta su da sola la mia lì sarà il pilota sarà la moto stai registrando vero? certo pensa che Gritti quando fa la sponda salta su dove sei tu veramente? fa la sponda sì ma loro fanno un altro sport cazzo c'entra fa la sponda gritti bam 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 mica male cazzo fa gioca a birilli? e poi te lo dico io cosa fa ma c'è qualcun altro o voi basta poi? la scusa di qua e il canalone non lo prendiamo chi è che si è ritirato quindi? nicchio john oh scusa ho puntato su ma mazza comunque è la mia comunque è la mia teoria che passare sempre a sinistra è la migliore ma macro? è la migliore che si vede però devi avere un po' di aprile eh sasso ce l'avevo corro con il cavaliere mazzerato allora tu se tu non prendi bravo bravo ha salito comunque benino bravo no perché non mi ha tirato una sassata no figa ma che cazzo di moto c'è? no non può però bloccarsi lì ma sei un pirla allora eh beh quel pezzettino lì però alla fine sei stanca arrivi lì che dici no non ci voleva sto coso oh pablo però adesso ok ci siamo divertiti così mettiamo la terza una volta io e Henry noi tre volevamo scappare avanti e scappare avanti ma che cazzo di ma che cazzo di